A due giorni dal pareggio contro il Catanzario e alla vigilia della sfida contro il Monterosi, l'Avellino va alla ricerca della seconda vittoria in campionato. I biancoverdi di Mr. Braia saranno ospiti del neopromosso Monterosi dei due ex Adamo e Rocchi. Non un grande avvio dei laziali che giocano nel Rocchi di Viterbo con quattro pareggi e due sconfitte. Terzo ultimo posto in classifica, ma l'obiettivo del seppur ambizioso club biancorosso è quello di salvarsi e mantenere la categoria. Per l'Avellino ovviamente diverso il discorso, i lupi non devono staccarsi troppo dal Bari e devono dunque cominciare a macinare vittorie per risalire la china. Braglia non avrà a disposizione ancora Di Gaudio che è in via di guarigione e che svolge allenamento differenziato. Sta meglio invece Canutè che andrà in panchina e che probabilmente non sarà rischiato dall'inizio, così come Mikoski, guarito ed in gruppo che gradualmente ritroverà il ritmo partita. In questo senso sarà importante la prossima settimana nella quale i biancoverdi avranno sei giorni pieni per preparare la sfida contro la Virtus Franca Villa. È in gruppo anche Plescia che ha smaltito stato influenzale, mentre appare più complicato vedere Silvestri ancora alle prese con la febbre. Stesso 11 dunque di giovedì sera con il 3-5-2 che dovrebbe presentare solamente due novità. Tito per Mignanelli sulla sinistra e Gagliano in avanti al posto di Mastalli. Sta bene invece Maniero uscito Claudicante dal campo per un abbotto al ginocchio sinistro. L'appuntamento domani dal Rocchi di Viterbo è alle ore 17 con Stadio e Studio per raccontarvi pre-durante e post-match di Monterosi Avellino.